E ancora Popolari Venete in primo piano. Se azionisti e risparmiatori transati e non sono alle prese con l'insinuazione al passivo, le tante imprese che avevano creduto in BPV e aperto mutui e fidi, ora sono alle prese con le nuove regole dettate da Banca Intesa San Paolo. Le associazioni di categoria si sono lasciate con il responsabile Veneto dell'Istituto di Credito con l'accordo di ritrovarsi a settembre per definire, pianificare, capire e soprattutto mediare quelle che potranno essere le novità. La spada di Dammo che però per tutte l'applicazione delle normative europee in tema bancario, il rischio per molte potrebbe essere l'impossibilità di ripagare i mutui e i contratti perché divenuti troppo onerosi. Ci auguriamo che Intesa San Paolo non metta in campo le normative europee, come hanno dichiarato, perché se mette in campo le normative europee, fra dire e fare c'è di mezzo il mare e andrà avanti con queste normative e creerà non pochi problemi a tutte le imprese e a tutti i risparmiatori. Beffati doppiamente, questo è il sentimento strisciante mentre si fa largo la diffidenza verso un sistema, quello bancario, che attraverso formule, lacce e laccioli è diventato oscuro ai più. Loro, associazioni e categorie economiche vogliono invece chiarezza e per questo hanno già puntato su uno strumento. Istituiremo una commissione di risparmiatori e di imprese che la lanceremo il 6 settembre dove noi risparmiatori e imprese vorremmo vedere e trattare con tutte le banche su quello che fanno e che faranno. Commissione ente strutturato, in grado di intervenire quale filtro con le banche e all'iniziativa avrebbe già dato la propria adesione anche a Pindustria. Ad ogni parola deve corrispondere i fatti, poi cambiare le carte in tavola in corso d'opera noi siamo stanchi di sopportarlo. Intanto l'unico a tacere di fronte a quella che rimane una situazione critica è il governo.